Carmine Buschini all'Ariano International Film Festival 12esima edizione, Carmine Braccialetti Rossi quanto è stato importante per te? Per me Braccialetti Rossi è stato sia un trampolino di lancio diciamo a livello professionale che mi ha permesso comunque di mettermi subito alla prova su un ruolo molto molto complesso che poi anche con il passare delle stagioni è diventato sempre più più importante tra virgolette no anche a livello umano comunque mi ha lasciato veramente tanto e ripeto che è stata una palestra importante perché ho imparato tantissimo lì. C'è un momento in cui hai avuto la necessità di fare l'attore per così dire cioè c'è stato un momento in cui è arrivata la vocazione? È sempre un desiderio che ho sentito che ho sentito forte fin da bambino ho avuto la possibilità di cominciare all'inizio appunto dovevo capire bene perché mi è cambiata la vita da un momento all'altro di capire come funzionasse cosa volessi io veramente dopo qualche anno che coincide tra virgolette con l'ultima stagione di Braccialetti dove ho avuto veramente tanta responsabilità ho scelto di volerlo fare perché sentivo proprio che ognuno di noi ha una vocazione in qualche modo nella vita a prescindere dal lavoro che fa e il mio in qualche modo è quello comunque di fare del bene agli altri come l'ho ricevuto io. Ultimissima cosa l'accoglienza d'Ariano ti aspettavi questo calore qui dall'Ariano International Film Festival? Assolutamente no c'è una bella energia siete belli voi siete ospitali la terra è bella ed è bello che questo è un festival io lo conoscevo perché diversi miei amici e colleghi ci sono già venuti è bello come lo state costruendo facendo crescere ed è bello come valorizzate questa terra è bella